Nasce, nasce, nasce da Philips la lampada rivoluzionaria SL Granluce. SL Granluce, figlia della tecnologia Philips dura e dura nel tempo 5 volte di più di una normale lampadina SL Granluce Philips è rivoluzionaria anche nel consumo 4 volte di meno di una normale lampadina SL Granluce, il nuovo astro del firmamento Philips.